Ma adesso ragazzi, giochiamo a una demo, perché il gioco finale costa 10 dollari. E io a malapena ho 10 euro per farmi la ricarica del telefono. Iniziamo Employee of the Month, quindi impiegato del mese. Ehi, è successo qualcosa! Ti spiace prendere il turno di notte? Grazie, saprei che tu dovevi contare su steve. Vieni alle 11. Ok. E' sangue quello. Ci possiamo andare, no? Parli con il boss. Ok, abbiamo bisogno di qualcuno per il turno di notte. Ok. Qualcuno è andato all'ospedale e qualcuno ha droppato il lavoro. Ok. 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 First, don't open any padlocked doors. You ain't getting paid to go in there. Secondly, the dumpsters are just across the car park. Don't take too long taking out the trash. It's a nice neighborhood, but it's best not to get stuck out in the dark for too long. Third, if the lights go out, the breaker switch is in amongst the shelves in the warehouse. Not my idea, but whatever. I need an electrician. Lastly, don't go into my office. That's everything. Any questions? Puoi vedere? Didn't think so. Anyway, the list is at the customer service desk. Oh, and be sure to clock up by 3 a.m. Adios! D'accordo. Buona serata. Buona serata. Praticamente ci ha detto che dobbiamo stare qui fino alle 3, anche se di solito i clienti non arrivano dopo le 8. Ci ha lasciato delle task da fare e ha detto di controllare comunque le telecamere. Per l'immondizia è dall'altra parte del parker, però ha detto comunque di non metterci troppo a fare, diciamo, quello che dobbiamo fare. C'è qualcuno. C'è qualcuno. C'è qualcuno. L'ho visto. No, ragazzi, l'ho visto. C'è qualcuno. No, ragazzi, c'è qualcuno. No, ragazzi, l'ho visto. Riga, no, non sono fulminata, eh. Non c'era nessuno. Ma dai, non è vero che non c'era nessuno. Senti dei palesi. Ah, ok, queste sono le task. Ok. Ok, dobbiamo mettere la carta igienica. Pulire. E trovare i cd dispersi del fitness. E riempire. Vabbè, è stato facile. Veloce, ok. Questo dove devo metterli, allora. Non ho capito. Ok, fatto. Scusate, non avevo visto che era qua. Perdonatemi. Ok. Ehi, ragazzo, scusate di chiamarti, eh. Come va la shopping lift? Ok, ho dimenticato di dirti che c'è un'altra lista. Che deve essere fatta. Devi incacchiarti con David per questo. Vai, devi cosa? Beh, non ho capito cosa devo fare. Devo trovare la seconda lista nella warehouse. Ah, è questa? Ah, ma prima non c'era. Vabbè. Ah, una per volta. Non possiamo metterla nel carrello. Dov'è che aveva detto che era il cestino? Qua? Sì. Per questa? Hai pigli per il culo? Ah, questo devo riempire. Oggi aspetta. Ok, ho capito. Iiii. Fatto. Fatto. Ok. Ok. Sta suonando il telefono? Se c'è una terza lista mi incazzo, eh. Io lo dico. Eh, pronto? E sai che ti ho detto di non andare nel mio ufficio? Ok, vai là. Ho lasciato qualcosa di importante lì. Se c'è una mia scrivania, fallo. Ok. Guardate, ma ce l'ho a fare chissà che cosa, eh. No. No. Ok. Ok, tutto a posto. Tutto a posto. Set of Mountain Tusk. No, no, si è aperta la porta. No, non vado là. No, no, fra. No, ti prego. Ma cosa stai dicendo, che è rotto? Dammi, dammi. Do questo. Ho un cartellone e non ho paura di usarlo. Oh, mio Dio. Perché siamo in salita, poi? Ma, Dio, cosa è successo? Oh, mio Dio, cosa è successo? Ma è pieno di sangue. Questa volta non è un loop. Non aprire il garage. Ci credo. Porca merda, stavolta lo vediamo. Eh, stavolta lo vediamo. Ah, bossi. Bossi. Cioè, ma abbiamo pure questo che ci rompe il cazzo? No, regà. Non posso correre. Eh, non potevo correre. No. Dov'è il telefono? Ah, oddio, siamo morti. No, per entrare dal garage. Non penso si apra. No, infatti non si apre. Eh, rip, sì. Cioè, ci stavo. Prima che non so dove sia il pezzente di merda, devo andare a rispondere al telefono. Oh, mio Dio. Ok. 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 Anche qui è una zona safe. Buona, buona. Ah, vedete? Queste sono le varie zone in cui ci può mandare. Eh, lui è qua. Ci sta camperando. Dobbiamo andare nell'ufficio. Ok, 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 ragazzi. Piano, piano. Oddio. Guardate. Cosa è successo? Ok, allora. Noi adesso prendiamo questa, ok? E salta la corrente. Giusto? Giusto. Ok. 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 Stavolta c'è l'Igo. C'è una testa. Ok. Ok. Aspetta per il rilascio del gioco completo. E niente, ragazzi. Finito così. And you, Umbra, for trying out this day. Ma... Da dove hai preso il mio nome? Sì